vi presentiamo la carbonara del vice direttore 1 un applauso sull'applauso l'ambiente l'ambiente la parola la parola l'ambiente non Grazie, grazie. Mamma mia. Olio crudo, se volete, un pochettino sopra? Buono, buono l'olio crudo. Quando è crudo l'olio... Se c'è lo mettiamo. Dai. Allora. Ti fanno prendere, Gianni? Sì, adesso lo facciamo, andiamo i vini a prenderlo, va. Quindi, l'olio è sopra lì in cucina e giù nei piatti. Allora, cosa ne pensate? Buona questa pasta, com'è? Eh, piaciamo che sì. Ottima, ottima. Ottima, ottima.